A Oviedo, in Spagna, Euronews ha incontrato il regista Francis Ford Coppola, insegnato del premio Principe delle Asturie per l'arte. A 76 anni Coppola ci ha fatto capire chi ha voglia di tutto, tranne che di andare in pensione. Che cosa significa questo premio alla carriera? È contento di quanto ha fatto? Ha qualche nostalgia? Sono una persona timida, per tutta la mia vita ho voluto far parte del gruppo. Quando ero piccolo ci siamo trasferiti spesso e non ho mai avuto tanti amici, sono stato un outsider e invece avrei voluto essere il miglior amico di qualcuno. Quando si diventa celebri e si ricevono tali onorificenze resti sempre una sorta di outsider, ma sono comunque molto fiero. Ha detto spesso di non voler più fare film di cassetta e vuole dedicarsi a una produzione indipendente. Il tempo delle grandi produzioni per lei è finito? Beh, forse sì, forse no. Solo il tempo potrà dirlo. Quello che volevo dire è che da giovane ero molto più interessato a film sperimentali, con cui si cercava di capire cosa fosse il cinema. Facendo i cosiddetti grandi film c'era molta più flessibilità. Oggi i cosiddetti blockbuster, i grandi film, sono tutti una sorta di Spider-Man, Batman, sono tutti su superuomini. superuomini. Sì, mi sembrano operazioni commerciali. Non penso che siano prodotti perché qualcuno deve farli, ma perché qualcuno vuole farci dei soldi. Nessuno investe dei soldi per fare qualcosa di nuovo. Investe per avere indietro il suo investimento. Assumere e prendere rischi è positivo, è un modo per avanzare. Ma se non c'è nessuno che vuole rischiare, allora la cosa non mi interessa. In passato lei disse, gli studios vogliono film senza correre rischi. È come se dicessimo di non fare sesso e volere anche dei figli. E' vero, non mi ricordo quando dissi questa frase, ma si devono correre dei rischi. L'arte è un rischio, è sempre stato così. Se pensi che quello che farai sarà eccezionale, probabilmente non lo sarà. Disse anche che il vero premio per lei è fare film che la gente ricorderà dopo 30-40 anni. Lei è riuscito in questo con la saga del padrino, Apocalypse Now. Era negli anni 70 e 80. Cos'è successo dopo? I film considerati classici oggi sono stati fatti 30-40 anni fa. Quello che è seguito non ha raggiunto questa soglia ancora. Vedremo cosa sarà considerato un classico o no. Sono comunque interessato alle novità, ne trago piacere. Faccio film perché mi piace, non per fare soldi. Non ho bisogno di fare soldi coi film. Ci puoi dire qualcosa sulla sua prossima avventura? Ma parlare dei propri progetti non è facile. E' molto bello. La gente ti ascolta dire voglio fare questo, voglio fare quello. E' come rilasciare vapore da un tubo di scarico di una macchina a vapore. Non posso dire più di tanto, ma sto lavorando a un progetto molto ambizioso. Il più ambizioso e grande dei film che abbia mai fatto. Uno dei miei film, Apocalypse Now, era un film sperimentale e commerciale. Fu un'impresa vanguardista per i tempi. Gli studios non volevano niente sulla guerra in Vietnam. Sono andato avanti da solo, mi sono fatto prestare i soldi, mi sono autofinanziato in pratica. La cosa mi spaventava, era rischioso, ma questo era l'aspetto interessante. La sceneggiatura non era passata per le mani dei finanziatori che mi imponevano di fare questo o quello, più simile ai cannoni di Navarone o a quest'altro film. Questo è chiaro a tutti. Lei investirebbe soldi in un film in cui il regista richiara non so esattamente cosa voglio fare? Ritornando ad Apocalypse Now, pensa che questo film aiuti a capire gli attuali conflitti? Apocalypse Now affronta il tema della moralità e dell'etica. Molti dicono, noi siamo i buoni, siamo morali, i terroristi sono cattivi, non hanno morale. Già questa è una bugia e la peggior cosa in Apocalypse Now sono le menzogne. Se fai qualcosa, devi essere prima di tutto onesto con quello che stai facendo. Uno diventa terrorista perché non ha un esercito. È semplice per un paese con un esercito dire combattiamo i terroristi, mentre i terroristi lottano con qualsiasi mezzo, qualsiasi cosa capiti loro tra le mani e il loro coraggio. Per cui se si vuole capire il mondo oggi e si vuole risolvere questo problema, per cui milioni di persone pagano un alto prezzo, dobbiamo smettere di mentire. Quanto importante è stato Marlon Brando per la sua carriera? Era un grande uomo, oltre ad essere un superbo attore. Era un genio. Non uso questo termine molto spesso, l'ho usato per due, tre persone. Marlon aveva un modo di pensare unico e in più era un uomo pieno d'amore. È stato difficile dirigerlo? No, bastava solo fargli proposte che lo interessassero. Se gli mettevo in mano un animale, un formaggio italiano, un sigaro, sapeva naturalmente cosa fare. Per dirigerlo bastava semplicemente dirgli, si un po' più duro, un po' meno. Sapeva quel che doveva fare. La sua è una famiglia di registi, sua figlia, suo figlio. Le chiedono mai aiuto? Mi chiedono ancora aiuto, anche se meno rispetto a prima. I più piccoli, come mia nipote Giancarla, che ha 28 anni, mi chiede sempre. Gli altri l'hanno fatto fino a 20 anni. Adesso sono quarantenni, cinquantenni, sono più discreti, più sicuri di quello che vogliono e comunque mi chiedono ancora di tanto in tanto. Certo, mia moglie, che ha fatto il suo primo film a 79 anni, mi ha fatto moltissime domande. Più diventano sicuri di se stessi e meno domande mi fanno.